Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, scusate se faccio con un po' di ritardo questo video. Prima di iniziare vi volevo chiedere, se ancora non l'avete fatto, di andarvi a vedere anche il post-partita di Francia-Argentina che ho fatto quest'oggi. Comunque l'Uruguay batte per 2-1 il Portogallo e si qualifica per i quarti di finale dove sfiderà la Francia. Uruguay trascinato da una doppietta strepitosa da parte del Matador Cavani. Cavani che questa sera ha dato spettacolo ragazzi, spettacolo, prestazione da 10. Ha fatto davvero di tutto e di più, oltre alla doppietta, davvero ha fatto una prestazione fantastica e dimostrato per l'ennesima volta di essere un fuoriclasse assoluto il grande Matador Cavani. Uruguay che ha fatto davvero una grandissima partita, ha meritato di passare, ha concesso molto poco al Portogallo, soprattutto nel primo tempo, mentre poi nel secondo tempo il Portogallo ci ha si provato fino alla fine, però l'Uruguay comunque si è difeso molto bene e dimostrato una grandissima solidità difensiva. Inoltre ricordiamo che ha la coppia di centrali dell'Atletico Madrid, Godin e Gimenez. E come detto l'Uruguay è riuscito a reggere anche nel finale di gara sul 2-1 quando era un po' sulle gambe e quando inoltre era anche uscito Cavani che purtroppo dopo aver segnato la sua doppietta si è infortunato. Speriamo non sia nulla di grave e speriamo anche che recuperi per il quarto di finale contro la Francia inoltre in occasione dell'infortunio di Cavani sono state davvero molto belle le immagini di Cristiano Ronaldo quando ha deciso di accompagnare Cavani fuori dal campo che non riusciva a camminare e auguriamo davvero una guarigione il prima possibile al grande Matador Cavani. Comunque ragazzi Uruguay che si porta in vantaggio gol tutto merito di Cavani l'azione parte da lui con un cambio di gioco bellissimo dall'altro lato per Suarez Suarez la mette in mezzo per Cavani che con un grandissimo colpo di testa davvero rapinatore d'aria di rigore segna il gol dell'1-0 C'è da dare meriti anche a Suarez per il cross ma i meriti di questo gol sono quasi tutti da dare a Cavani perché prima fa quella pennellata fantastica servendo Suarez dall'altro lato del campo e poi quel colpo di testa davvero fantastico con il quale porta il suo Uruguay in vantaggio il primo tempo finisce 1-0 per l'Uruguay come detto l'Uruguay nel primo tempo non concede davvero nulla al Portogallo mantiene bene il risultato e anzi crea anche diverse azioni dove va vicino al gol del 2-0 mentre poi nel secondo tempo entra bene in campo il Portogallo che riesce a pareggiare con un colpo di testa di Pepe però poi l'Uruguay trova il gol del 2-1 ancora con il Matador Cavani che segna la sua doppietta e il gol del 2-1 che poi regalerà all'Uruguay la qualificazione agli ottavi di finale Cavani servito da Bentancur con un tiro a giro nell'angolino segna il gol del 2-1 un gol davvero fantastico ragazzi un gol fantastico da parte di un fuoriclasse assoluto e da parte di quella che secondo me è la punta più completa presente in circolazione a me Cavani è sempre piaciuto moltissimo ovviamente è stato un idolo di tutti noi tifosi napoletani ai tempi del Napoli ma ancora oggi davvero è rimasto nei nostri cuori e magari quel classe 87 al quale ha fatto riferimento negli ultimi giorni dell'Aurentis che potrebbe arrivare al Napoli magari sarebbe Cavani sarebbe davvero un vero e proprio sogno il ritorno di Cavani al Napoli comunque ragazzi davvero un giocatore formidabile tecnica, velocità ritorna anche in difesa a recuperare i palloni ha una realizzazione davvero straordinaria velocità ha davvero tutto ragazzi ha davvero tutto per essere una prima punta completa quindi ragazzi l'Uruguay davvero un'ottima squadra ha fatto davvero un'ottima partita ha giocato molto bene e si è anche saputo difendere bene nei momenti di sofferenza mentre per quanto riguarda il Portogallo ci ha provato fino alla fine però non è riuscito ad incidere granché Ronaldo questa sera non si è visto molto e quindi nello stesso giorno sia Messi che Ronaldo dicono addio a questo mondiale di Russia 2018 quindi ragazzi detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli è stato un'ottima partita qui è stato un'ottima partita